Ciao, sono Simona Fossati, sono candidata all'IMG2 nella lista Piazza Pulita all'IMG senza bavaglio. Mi candido insieme a Silvia Onibene, Toscana, e Maria Giovanna Faiella, Lazio. Il nostro sindaco è Vittorio Pasteris. Ti chiedo di votare la squadra in blocco. Certo, ti hanno sfinito con le mail, intasato le mail, mandato messaggini, di tutto di più, ma il tuo voto è davvero vitale, non è mai stato così importante come questa volta. Il voto online è finito, ma ci sono ancora due giorni, sabato e domenica, per recarsi al seggio. Ruba un'ora al tuo tempo libero per andare, oppure al tuo tempo di lavoro, se lavori in un quotidiano, per andare a votare al seggio. Trovi tutti gli indirizzi sul sito dell'IMG. Bisogna davvero, devi cambiare, non credere ai rinnovatori, non credere a chi si ricandida e non ha mai fatto nulla, non credere a una dirigenza che ha distrutto l'IMG. Per favore, vieni a votare. Vota per tutta la squadra di Piazza Pulita all'IMG, tutti i candidati su www.senzabavaglio.info. Trovi anche i candidati per l'IMG1 e i pensionati. Noi non sappiamo se queste elezioni saranno oneste e trasparenti. Ci sono state troppe interferenze dei presidenti e segretari delle associazioni di stampa che non avrebbero nemmeno dovuto entrare in pista per le elezioni dell'IMG. Per questo il tuo voto è più che mai vitale. Per favore, vai a votare e vota per tutti i candidati di Piazza Pulita all'IMG, senza bavaglio. Grazie del voto, grazie della fiducia. Mi raccomando, buon voto. Ciao.